aiuto aiuto eeeh, primo avuto abbiamo trovato tutto la pagaia che si spegne e non lo faccio, abbiamo un po' che si spegna ma lo so che è qua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo accendo un attimo? Grazie a tutti. Grazie a tutti.